Qualcuno scopra se quell'appare gigante lo abbiamo mandato noi. Ho sempre sognato una cosa simile. Guardatevi. Ferma! Identificati! Vuoi che mi presenti? Potete chiamarmi Mega Dinosauro! Sei sicuro di potercela fare? Voi cercate di fare in fretta. A tutte le unità! Ci servono rimporsi! Non andate! Mi sto divertendo da morire!